Sì, ho fatto una volta uno spettacolo che si chiamava Dialogo fra un impegnato e un non so. Era uno spettacolo in cui emergevano i dubbi dell'esistenza, i dubbi dell'essere, i dubbi dell'appartenere, dell'esistere. Direi che in questi ultimi anni fra l'impegnato il non so ha vinto il non so e il non so è diventato una condizione umana molto diffusa, credo che molti siano dei non so, per cui in effetti ultimamente succede una cosa che una volta non accadeva, una volta io sapevo perché la gente veniva a teatro, più o meno individuavo un pubblico che alla fine degli spettacoli usciva pieno di dubbi, diviso, con posizioni a favore, sempre bene naturalmente, però con una voglia di discutere i temi dello spettacolo, a favore, pro, contro, eccetera. Adesso io non conosco il pubblico che viene a vedere i miei spettacoli, so che viene perché effettivamente i teatri sono pieni, però non so bene che tipo di pubblico venga. So che alla fine invece di essere diviso il pubblico è molto unito e quindi si è venuta a capovolgere la situazione. Sì, io ho fatto una volta uno spettacolo che si chiamava Dialogo fra un impegnato e un non so. Era uno spettacolo in cui emergevano i dubbi dell'esistenza, i dubbi dell'essere, i dubbi dell'appartenere, dell'esistere. Direi che in questi ultimi anni fra l'impegnato e il non so ha vinto il non so. Il non so è diventato una condizione umana molto diffusa, credo che molti siano dei non so. Per cui in effetti ultimamente succede una cosa che una volta non accadeva, una volta io sapevo perché la gente veniva a teatro, più o meno individuavo un pubblico che alla fine degli spettacoli usciva pieno di dubbi, diviso, con posizioni a favore, sempre bene naturalmente, però con una voglia di discutere i temi dello spettacolo a favore.